In provincia di Trento è stato installato il primo semaforo per rilevare la validità del Green Pass all'interno all'entrata dei locali commerciali al bar, al marinaio, al sud di Trento, il primo test. Andrea Selva. Proviamo quello cartaccio, qui dietro, e vai. E siamo verdi. Sono le 15.30 quando i primi clienti del bar-ristorante al marinaio, a sud di Trento, entrano con il controllo automatico del Green Pass. Per loro semaforo verde e una procedura mai provata. No, no, così automatizzato no, è che noi veniamo dalla spezia, giù ci sono le app sul cellulare, quindi all'interno dei locali viene controllato solo dall'addetto, dal cameriere, sul cellulare e basta. Giovanni Groff, titolare del locale, spiega quali sono, secondo lui, i vantaggi di questa soluzione tutta trentina. Fondamentalmente di immagine, di velocità, perché il cliente poi, il cliente stesso che ha il piacere di testare la validità del suo pass. Il marinaio che promette e poi non manterrà, ma la ragazza questo non lo sa, a miei cuori semplici ha giurato fedeltà, dicendo d'amerò. Ogni ragazza aspetta un marinaio che tornerà e sempre l'amerà, ma il marinaio cerca cento ragazze che troverà. Grazie a tutti.